Beh, c'è una bella impresa appunto sull'acqua, ecco, diciamo si parla di kayak e stasera abbiamo incontrato una specialista di questo, ecco, ed è Vanessa Cardamone. Vanessa, allora la tua è una traversata appunto assieme a un tuo collega che mi dicevi, lui che parte da Taranto, tu da Reggio Calabria, giusto per riscoprire quella che è la costa della Calabria, ecco, no? Diciamo queste bradicci greche. Sì, in realtà questa traversata si chiama Rinascita della Magna Grecia perché appunto il nostro intento è quello di fare, di scoprire le vecchie colonie della Magna Grecia. Siamo due kayak, uno è partito da Taranto, Francesco Mazzacoco, io invece sono partita da Reggio Calabria e in otto tappe, l'uno, ci incontreremo a Crotone, anzi sotto Capocolone, in realtà domani. Domani sarà la tappa finale e il nostro intento è quello di fare riscoprire a tutti, anche a noi, dove è nata l'Italia. L'Italia è nata qui, tra le nostre coste, quindi noi man mano abbiamo avuto questi passaggi a metà ponto, insomma tutte le colonie importanti della Magna Grecia. Il nostro cavallo di battaglia è stato il bui di pane, perché? Perché il bui di pane in realtà rappresenta la pace, la fine della guerra e la pace. In realtà questo progetto nasce dall'incontro di due associazioni, Calabria e Maria Ramona e la nuova scuola pitagorica. Questo bui di pane, perché? Perché Pitagora, quando ha scoperto il teorema di Pitagora, ha dato agli dei, in senso di gratitudine per questa scoperta, il bui di pane. Questa usanza l'ha trovata in Calabria. Infatti in Calabria, con il primo grano, si usava a fare questo bui di pane e offrirlo agli dei. Questa è più o meno la storia, ecco qua. Passiamo a qualcosa di più pratico. Qual è stata la difficoltà maggiore che hai avuto nel fare questa attraversata? La difficoltà, il vento, le onde. Oggi in particolar modo è stato molto difficile approdare qui, perché c'era molto vento, quindi insomma dobbiamo un po' combattere contro queste intemperanze del mare. Hai avuto una barca di supporto oppure no? In realtà no, sono in alcuni punti, grazie alla generosità di alcune prologo, di alcuni privati che hanno sposato questo progetto e che ci hanno sostenuto, però sono in alcuni punti.